Si definisce una grafica creativa innamorata della bellezza, Papa Francesco la definirebbe missionaria digitale, lei si chiama Mariella Matera in arte a Lumera, la quale diamo il benvenuto questa mattina. Buongiorno, ciao, bentornata perché lo dicevamo prima a microfoni chiusi sei stata già ospite di Fra Pasquale Cianci ma torniamo a parlare con te della bellezza della tua missione e di quello che fai che è davvero creare bellezza perché ti occupi di grafica ma non solo è anche scritto un libro dedicato alle preghiere ecco dei più piccoli però ne parleremo più tardi. Una curiosità ma immagino te l'abbiano già chiesto in centinaia, che cosa significa a Lumera che poi è il tuo nome d'arte se così possiamo definirlo? A Lumera per me è una missione e il termine proprio deriva dalla calabrese, dal mio dialetto che è il lucianiera d'olio perché in un momento particolare della mia vita ho sentito proprio questa chiamata attraverso la mia arte e i talenti che Dio mi aveva donato ad essere una piccola scintilla, una piccola lumiera nel mondo del web. Infatti è letteralmente il lutherniere in italiano. È una scintilla comunque che non ha tardato a farsi conoscere anche nel mondo appunto ecclesiale. Il tuo ultimo libro, libro illustrato di preghiere per bambini, appunto nell'anno dedicato alla preghiera in cammino verso il giubileo, vuole aiutare i più piccoli a fare che cosa? Principalmente a riscoprire la bellezza della quotidianità perché è la quotidianità che si fa preghiera. Infatti ci sono tante pregherine che accompagnano il corso della giornata e guidati un po' da questi due personaggi che sono sole e sal, la luce del mondo e il sale della terra. Proprio per far riscoprire ai bambini la bellezza di essere, di fare della vita una preghiera. Non dei momenti da ritagliarsi durante una giornata ma di intonare questo dialogo con Dio continuamente. Ecco, quindi riscoprire la bellezza dello Spirito Santo e della preghiera nella quotidianità. Tau Edizioni, grazie alla regia, stavamo vedendo appunto i tuoi piccoli influencer, l'influencer del sorriso, l'influencer della felicità, l'influencer della gioia che appunto recitano il Padre Nostro e chi meglio di loro può in qualche modo rappresentare quello che tu hai scritto, quello che hai disegnato. Quando vediamo anche attraverso il tuo blog e le tue opere, Mariella, quello che tu disegni e soprattutto come lo fai, sembra l'atto più facile del mondo, ma non è così perché non solo devi avere la capacità di disegnare, la creatività di pensare quello che stai facendo e anche la bellezza poi di comunicarlo agli altri, l'immediatezza. Quindi davvero è un talento che il Signore, è che tu sei riuscita in qualche modo a mettere in pratica, una vocazione posso definirla così? Sì per me lo è, per me è proprio una vocazione perché come dici tu sembra semplice però la media di ogni illustrazione è dalle tre ore di media, quindi ce ne sono alcune otto, alcune un po' di meno, però è veramente molto elaborato questo stile. Però per me veramente delle volte dico che sono molto fortunata perché lo Spirito Santo mi aiuta veramente tanto anche a vivere con leggerezza questa missione, quindi a non essere schiava delle scadenze, delle cose ma farlo veramente con lo Spirito. Quindi se penso e sento che è il momento di illustrare, di fare, lo faccio veramente in preghiera. Non nasce mai un'illustrazione fine a se stessa, ecco quindi è sempre frutto di una meditazione. Quindi l'atto di disegnare è dalle tre alle quattro ore, però magari sono anche più giorni di gestazione poi della preghiera digitale, perché per me le chiamo così le mie preghiere digitali. Sì, perché appunto le stiamo vedendo, ne ho scelte alcune tratte appunto dal tuo blog, dal tuo sito internet, alumera.it, se anche su Facebook, Twitter, Instagram e quindi Pinterest. Consiglio proprio ai nostri amici di andare a vedere le tue illustrazioni, le tue opere. E' proprio la bellezza anche con una frase, ad esempio questa immagine. Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare al mio Dio finché esisto, tratto da un salmo, una preghiera immediata, istantanea, dieci secondi, abbiamo rivolto il nostro pensiero al Signore. Quindi davvero ci hai preso per mano e ci hai accompagnato a questo momento intimo di preghiera. Quindi davvero è molto bello quello che fai. Stai lavorando a qualche progetto in particolare? Quindi abbiamo detto che a maggio è uscito il tuo libro dedicato alle preghiere per i bambini. Stai lavorando a qualcos'altro? In questo momento sto facendo una collaborazione importante che uscirà nei prossimi giorni e sto iniziando a mettere un po' nel cuore il tema che ci accompagnerà perché faccio così ogni anno scelgo un tema che poi ci guida per l'anno. L'anno scorso è stato Polvere e Stelle, quindi un cammino tra terra e cielo, due anni fa l'amore, la luce e quindi sono in questa fase un po' più creativa adesso. Che meraviglia! A dicembre inizierà un anno importante per tutti quanti noi che è il giubileo del 2025. Sei giovanissima quindi non so se ti ricordi, hai partecipato al giubileo del 2000, la GMG Tor Vergata e altro. Volevo chiederti, volendo immaginare appunto il giubileo del prossimo anno del 2025, la parola che ci accompagnerà sarà quella appunto della speranza. Come ti immagini una vignetta così, una vignetta, un'immagine, perdonami, perdonami, un'immagine estemporanea in questo momento? Per me la speranza è veramente una luce che si accende e delle volte è difficile anche farlo da soli, vedere la bellezza e il futuro, l'ambientazione della speranza. Quindi per me la speranza è veramente una candela che si accende l'un l'altro, perché noi abbiamo la fonte della nostra speranza, che è la nostra luce, che è Gesù Cristo. Però delle volte è difficile arrivare direttamente lì perché il cammino è un po' complicato. Allora accendiamoci l'un l'altro la speranza per camminare insieme, soprattutto in quest'anno giubilare, veramente con il cuore colmo di quella bellezza che è Cristo. Quindi immaginerei delle persone che si accendono l'un l'altro. Che bellezza! Grazie, grazie Mariella. Allora ricordo il tuo sito, allumera.it, sul quale poi si troveranno tutti i riferimenti social. Quindi vi consiglio di andare a visitare il blog e il sito di Allumera. Mariella Matera, grafica influencer, missionaria digitale, come direbbe Papa Francesco, che ringraziamo per essere stata con noi quest'oggi. Grazie. Torneremo a collegarci con te, magari anche in vista del Giubileo, per raccontarci le tue ultime creazioni e collaborazioni. Grazie ancora per essere stata con noi questa mattina. Grazie a voi, grazie a voi. Buona giornata. Grazie mille. Ciao Mariella. Allora ci fermiamo qualche istante, ancora linea alla regia, ricordandovi che c'è un numero di telefono al quale potete fare riferimento per le vostre foto, 331 737 8033, cartoline dall'Italia o dalle località che vivete o che avete visitato. E poi subito dopo, a ampio spazio questa volta, manteniamo la nostra promessa, ampio spazio dedicato alle Olimpiadi di Parigi. Grazie.